Il sodalizio tra lo skipper Andrea Fantini e Alberto Bona, oramai, è una certezza. Anche i lavori sulla barca, dopo i lavori a bordo con i tecnici, sembrano andare per il meglio. Il Magalè è pronta per diventare class 40 Enel Green Power. Ma tra questa fase di cantiere e le 4.350 miglia con partenza da Le Havre in Francia e arrivo a Salvador de Bahia in Brasile, della Transat Jacques Vabre 2017, è rimasto il trasferimento da Genova e Lorient. È proprio qui che abbiamo lasciato i protagonisti di Obiettivo Oceano, che dopo una buona prima parte di questo trasferimento, utilizzato anche come qualifica alla regata, sono incappati in un tosto temporale notturno che mette a dura prova il loro lavoro. Siccome noi siete curiosi di scoprire come proseguirà la traversata, vi aspettiamo la prossima settimana. Non mancate! Non mancate! Grazie a tutti.